Accoltellò un geometra suo collega lo scorso giugno, teatro del fatto di sangue, gli uffici della manutenzione del comune di Arezzo in via Tagliamento. Adesso Giovanni Polucci Sabbioni dovrà rimanere in cura due anni nella Rems di Empoli, dove si trova attualmente. A deciderlo il Tribunale di Arezzo, preseduto da Gianni Fruganti, che ha derubricato il reato da tentato omicidio a lesioni volontarie gravi, giudicando l'imputato non punibile per vizio totale di mente è stata appunto l'incapacità di intendere e volere, al momento dell'episodio, assieme alla pericolosità sociale certificata dal perito psichiatrico, a condurre il 59enne nella Rems, in cui già si trova da alcuni mesi. Il PM Chiara Pistolesi e la parte civile avevano invece concluso sostenendo il reato più grave, ossia il tentato omicidio. Il violento episodio risale al 28 giugno scorso. Il 59enne, custode del campo scuola comunale, improvvisamente si scagliò sul collega di 47 anni, ferendo l'alcollo con un coltello da cucina. Polucci a quel punto scappò per poi costituirsi dopo qualche ora, dopo l'arresto, il carcere ed infine il trasferimento nella Rems di Empoli. 25 anni fa Polucci si rese responsabile di un altro accoltellamento, del tutto simile a quello dello scorso giugno. Anche in quel caso, infatti, colpì un collega, fortunatamente senza gravi conseguenze.